Ciao, io sono Giulia Signore e frequento il terzo anno di Interior Design presso l'Ateneo Postdiploma ISGMD. La mia esperienza nasce dalla fine di un percorso scolastico di tipo scientifico e proprio per questo motivo all'inizio avevo numerosi timori riguardanti questa mia nuova scelta perché credevo di non avere delle basi sufficientemente solide per poterla affrontare nel migliore dei modi. Ad oggi però posso affermare con certezza che grazie alla presenza di docenti competenti ma soprattutto grazie al rapporto che si viene a creare tra docente e studente ogni ragazzo abbia la stessa possibilità di potercela fare. Ovviamente bisogna metterci tanto impegno e tanta voglia di fare. Consiglio vivamente ISGMD in quanto è un ambiente nel quale si impara facendo perché il lato progettuale e pratico molto sviluppato e questo porta i ragazzi alla conclusione dei tre anni accademici a potersi relazionare con il mondo del lavoro senza troppe problematiche. Inoltre credo che un aspetto molto importante sia il fatto che i docenti insegnino ad utilizzare dei programmi a computer che siano gli stessi utilizzati all'interno degli studi di architettura e anche il fatto che al secondo e terzo anno di interni lo studente sia obbligato a fare uno stage. Questo porta il ragazzo a sviluppare sia una propria crescita personale che ad avere un contatto costante, diretto con la realtà che lo circonda, con la realtà del lavoro che un domani dovrà fare.